Il Comune di Pesaro e Damat presentano Miral Teatro d'Estate, teatro e musica al Parco Miralfiore di Pesaro. Mercoledì 19 luglio la cantautrice Maria Antonietta presenta La Tigre Assenza Tour, dal nome del suo nuovo album In Memoria di Cristina Campo. Giovedì 20 luglio il Teatro Accademia presenta Ulisseide. Venerdì 21 luglio sarà la volta di Voci e musica di una notte di mezz'estate, con il coro del Grillo d'Oro e Ex Novo Coro Urbano. 70 voci dirette dal maestro Gabriele Foschi. Sabato 22 luglio Nino Frassica, accompagnato da Los Plagers Band, porta in scena un concerto cabaret. Per info e prenotazioni... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!